Mancano pochi giorni nel referendum consultivo che coinvolgerà i cittadini di Quero Vasse all'anno di Piave, che domenica e lunedì dovranno esprimersi per il sì o per il no in merito alla fusione dei due comuni che potrebbe dare vita al nuovo comune di Setteville. La consultazione referendaria, che coinvolgerà altre tre proposte di fusione in Veneto, Guarda Veneto e Polesella nel Rodigino, Carceri Vighizzolo d'Este in provincia di Padova, Gambugliano e Sovizio nel Vicentino, sarà la prima in seguito all'approvazione della legge regionale 23 dello scorso 6 settembre, che ha abbassato il quorum di partecipazione dal 50 al 30%. Non solo, il recente Decreto Legge 22 ha esteso di ulteriori 5 anni la durata di contributi statali straordinari alle aggregazioni. Se vinceranno i sì, quindi i nuovi comuni istituiti in seguito alla fusione riceveranno incentivi dallo Stato per ben 15 anni, per un totale, secondo i calcoli della fondazione Think Tank Nord-Est, di oltre 3 milioni di euro. Nello specifico, se venisse istituito, il nuovo comune di Setteville otterrebbe 1 milione 28 mila 765 euro all'anno di contributi statali per 15 anni, pari a 179 euro pro capite per i 5 mila 780 abitanti, con un'incidenza sulla media 2020-2022 delle entrate correnti del 14%. A questi incentivi si aggiungono poi i contributi straordinari erogati dalla regione Veneto, che oscillano intorno ai 500 mila euro, ma che variano a seconda della dimensione demografica del nuovo comune, del numero di enti che si aggregano e del livello della spesa corrente. Inoltre, sempre la regione Veneto ha previsto un contributo integrativo unatantum per la riorganizzazione dei servizi del nuovo comune e forme premiali nelle misure di incentivazione regionale.